Io sono appunto un botanico applicato, in particolare sono un geobotanico, un ecologo vegetale e mi occupo anche di ecologia del paesaggio. Nell'ambito di questo progetto interdisciplinare mi sono occupata della caratterizzazione e dello studio delle fitocenosi erbacee in aree pilota del progetto, come anticipato in Valdosde e vicino a Orvieil, in Val d'Aosta. Lo scopo era quello di non solo farne una caratterizzazione specifica e quindi vederne la composizione floristica, quali e quantitativa, ma attraverso le piante e come vivono insieme a formare degli aggruppamenti delle fitocenosi, in maniera indiretta andare a individuarne le esigenze ecologiche e quindi l'ecologia del luogo, stimare dal punto di vista quali quantitativo la biodiversità sia a livello specifico ma soprattutto ecosistemico, capire l'evoluzione spazio-temporale in relazione al climate change che è il goal di questo progetto ma anche in relazione all'antropizzazione quindi al loro uso per avviare quindi pratiche di gestione, di salvaguardia ma anche di monitoraggio in relazione soprattutto con i cambiamenti climatici. Per far questo ho effettuato dei rilievi floristico-vegetazionali in campo utilizzando il metodo fitosociologico e ho rielaborato ovviamente i dati per arrivarne a una caratterizzazione fitosociologica ed ecologica calcolando alcuni anche parametri ecologici ad esempio attraverso i bioindicatori di Ellenberg-Pignatti e valutando anche gli aspetti morfologico-funzionali delle specie con le forme biologiche e anche gli aspetti bioevoluzionistici e biogiografici con i corotipi e la valutazione quantitativa della biodiversità attraverso alcuni indici fra cui l'indice di Shannon. Gli aspetti qualitativi che non sono quindi chiaramente enumerabili però sono fondamentali e importanti soprattutto in termini di gestione e di conservazione della natura parlando di specie rare minacciate in via di estinzione che comunque debbano essere protette. Le aree di studio ve le hanno già anticipate, siamo in Val d'Aosta d'Orvieil e quindi nell'altra area di studio siamo in Val d'Osdee quindi due aree molto differenti non solo geograficamente distanti nell'arco alpino ma anche come conformazione geomorfologica. Partendo da Arvieil siamo in una situazione di versante con un'esposizione prevalente diciamo sud-sud-est un'area l'area da noi da me studiata è un'area compresa fra il 1950 e i 2230 metri sul livello del mare diciamo la zona di tensione del limite altitudinale dell'albero anche per capire se questo in relazione al climate change è cambiato o meno e capire questi fenomeni substrati nettamente acidofidi a un'area sicuramente di prati pascolo utilizzati e anche utilizzati anche per carità per la loro valenza anche turistica da escursionisti dicevo prati pascolo che si sviluppano appunto su questi versanti e che in generale mi hanno permesso attualmente allo stato attuale di censire circa 150 specie o meglio entità vegetali quindi tra specie e subspecie di cui alcune molto interessanti endemiche alpiche come Achillea erbarotta subspecie moscata o Phytherma scherzeri una subendemica genzianella ramosa e anche alcune specie a protezione totale nazionale come l'arnica montana che qui vedete vicino in foto da Tiloriza Maialis e Migritel Relicani legate proprio a questi ambienti non l'ho detto prima ma siamo comunque all'interno di un'area parco nel parco del Gran Paradiso per cui la tematica di voler far convivere la conservazione della natura con anche l'utilizzo della stessa a scopi produttivi ma anche a scopi turistico escursionistici è un tema molto importante anche nella pianificazione e nella gestione di un'area parco i pascoli presenti in questa area in questa zona diciamo in questa area studio pilota in questa fascia altitudinale che ho ricordato fra i 1950 e i 2200 metri sono differenti quindi abbiamo differenti cenosi questo è emerso dai rilievi sicuramente adesso viene accenno ad alcuni dominanti e sono soprattutto pascoli a nardo a nardo stricta e trifolium alpinum che sono sicuramente pascoli legati proprio all'utilizzo quindi praterie legate al pascolo praterie mesofile che con il loro corteggio floristico ci testimoniano un substrato fortemente acido praterie quindi mesofile ben adattate alle condizioni climatiche del luogo ovviamente il dimamismo e l'abbandono del pascolo porta a un avanzamento degli arbusti arbusti come quali erododendrum, ferrugineum, mirtillo ed altri che possono nella fascia più bassa preludere e creare l'ambiente idoneo a un ritorno eventuale del bosco cioè qui il tema è capire se il limite del bosco è stato anche artificialmente mantenuto più basso per far spazio al pascolo in passato e se sta recuperando per un abbandono del pascolo o se sta recuperando in quota il bosco anche in relazione al cambiamento climatico e quindi lo studio di questo e del dinamismo di quali siano le specie pioniere diciamo anche guida e diagnostiche per farci capire il modello evolutivo diventa di fondamentale importanza ovviamente una gestione dei pascoli a nardo prevede perché questi siano più produttivi e anche con un maggiore numero di specie buone pabulari e non eccedere col carico del bestiame perché ovviamente il nardo non è una specie molto appetita dai bovini perché appunto essendo così dura può anche arreccare dei tagli nell'apparato nella bocca dei bovini stessi e tra l'altro anche specie spinose qui in alto vedete una carlina caulis che è proprio tipica dei nardetti le specie spinose le specie troppo dure non vengono appetite e quindi gli animali selezionano mangiandole i migliori pabulari e se il carico eccessivo non si ha al tempo perché queste possano nuovamente ricacciare dal cespo e quindi aumenta la presenza del nardo con un impoverimento anche non solo della qualità del pascolo ma anche della biodiversità infatti mediamente adesso senza tirar fuori indice cose però mediamente anche dai miei rilievi i pascoli dove già il nardo aveva una copertura superiore al 70-75% avevano un complesso di specie attorno alle 15-18-20 specie mentre dove in quei tratti dove il nardo aveva coperture inferiori attorno anche solo al 40% già il numero che è un indicatore grossolano di biodiversità però il numero delle specie saliva attorno al 38-40 fino anche al 50 specie quindi capite che c'è anche questo discorso di perdita, di impoverimento in biodiversità oltre a un'acidificazione dei suoli indotta dal nardo stesso per il monitoraggio anche in relazione al cambiamento climatico dal mio punto di vista appaiono molto interessanti altre praterie qui presenti in una fascia al crudinale leggermente più bassa quindi siamo intorno ai 1900 metri proprio nella zona di tensione diciamo con il limite dell'albero che sono le praterie Abromus erectus adesso ho cambiato nome Abromopsis erecta e Festuca del gruppo Vina si tratta di praterie xeriche più che xeriche direi termofile tendenzialmente non hanno esigenze edafiche in relazione al pH però colonizzano substrati molto superficiali sono sì sicuramente anche queste pascolate in minor misura rispetto ad altri pascoli di quota e sono esclusive di esposizioni a solazio quindi siamo sul sud pieno e diciamo che queste sono praterie che nella mia anche esperienza ma non solo nella mia anche da bibliografia difficilmente arrivano a queste quote ora la specie singola sì ma trovare il complesso di specie diagnostiche che mi caratterizza questa prateria e quindi tutte insieme non è così facile per cui sono sicuramente da monitorare anche in futuro per cercare di capire appunto quanto il cambiamento climatico possa aver influito anche su un sopraelevazione diciamo una risalita in quota di questo tipo di praterie che sono più tipiche della fascia più bassa montana l'evoluzione è sempre data da un abbandono del pascolo con avanzamento di arbusti del mantello boschivo anche qui visto che queste sono praterie che colonizzano substrati anche abbastanza superficiali l'eccessivo carico di bestiame può portare a una rottura del cotico erboso e quindi a un innesco di fenomeni erosivi soprattutto qualora siano su versanti in pendenza con ruscellamento e quindi problematiche anche di questo tipo sempre in quest'ambito in esposizione invece a nord sono presenti e le vediamo qua delle fitocenosi erbacee a erioforum latifolium carex davaliana proprio del carician davaliane che riguardano formazioni che si sviluppano su oli oligotrofici poco sigenati o quasi torbosi in caso anche di ruscellamento qui vedete un piccolo rivolo d'acqua con del salis fetida al margine e poi tutta questa prateria che è una prateria quindi umida non è un ambiente vero e proprio di torbiera siamo in un ambito un po' differente anche queste formazioni sono formazioni a zonali stabili quindi che non prevedono un'evoluzione in senso tecnico cioè di cambiamento di struttura verso altre formazioni ma che sono estremamente sensibili questo si ha il cambiamento climatico perché basta cambiare di poco anche l'umidità del suolo o il periodo di innevamento che si vanno ad impoverire come le specie si vanno anche a ridurre come superficie e quindi il monitoraggio puntuale dell'estensione di queste fitocenosi che sono molto localizzate è abbastanza interessante proprio in relazione al cambiamento climatico è evidente che essendo a contatto solo spaziale non evolutivo con altre praterie non è infrequente che possa esserci un passaggio di mandrie o anche per una beverata e questo può portare a eutrophizzazione a disturbi e visto che queste sono praterie ricchissime di specie molto rare e che debbono essere in qualche maniera tutelate e conservate soprattutto in un'area parco sarebbe comunque anche bene in qualche maniera cercare di evitare azioni di disturbo passando alla Valdosde entriamo in un ambito completamente diverso dal punto di vista geologico e morfologico non solo biogeografico perché siamo in una conca di origine glaciale una quota media intorno ai 2100 metri sul livello del mare su substrati sempre acidofili con un mosaico di formazioni erbacee e non solo anche arbustive quindi prati pascoli e soprattutto torbiere in questa conca abbiamo anche la presenza di un rifugio un'intesa anche quindi diciamo così attività turistica escursionistica e non solo di pascolo l'area che ho indagato come superficie è più piccola rispetto alla precedente comunque abbiamo circa una novantina di entità vegetali censite anche qui alcune di interesse perché sono specie endemiche delle Alpi come Pilosella glacialis e quant'altro specie a protezione totale nazionale e una specie a protezione regionale di regione Lombardia come ho detto poco fa e già qui in alto si vede si tratta dalle colorazioni differenti che fa la vegetazione di un complesso mosaico che è proprio legato alle micro variazioni morfologiche pedologiche di una conca glaciale e quindi ecco che abbiamo delle conoidi di detriti morenici con specie con habitat differenti e quindi ospitano specie cenosi differenti rispetto alla parte del fondo della conca che peraltro non è tutta piatta uguale ma presenta anche micro avvallamenti che però determinano periodi di innevamento diversi e quindi anche qui formazioni vegetali differenti anche qui nardeti quindi pascoli che anziché avere appunto cariceti a carri scurvo l'abbiamo dei nardeti dove il nardo in alcuni casi è proprio una specie dominante fino al 70-80% con caratteristiche con specie alcune leggermente differenti da quelle che abbiamo visto prima in Val d'Aosta ma d'altronde questo è anche un motivo biogeografico siamo in un'altra zona delle Alpi influenzata dal punto di vista anche evolutivo dell'evoluzione delle specie da molti elementi orientali mentre ovviamente in Val d'Aosta abbiamo anche elementi occidentali quindi cambia leggermente e sono associazioni vegetali differenti le condizioni ecologiche sono analoghe alle precedenti quindi praterie mesofile acidofile legate al pascolo e in questo caso abbiamo per l'abbandono e si vede anche in foto l'avanzamento di alcuni arbusti soprattutto si comincia con bassi arbusti che formano delle brughiere delle lande basse seguite poi da arbustetti con arbusti più esigenti come gli Uniperus communis o Salix breviserrata la gestione analogamente a quanto detto prima eccessivo pascolamento determina impoverimento floristico caduta di biodiversità acidificazione dei suoli qui vediamo proprio una situazione di avanzamento della landa base e delle formazioni arbustive a Ginetro anche in questo caso ho detto ci sono c'è un mosaico forse ancora più minuto rispetto a Orviella a Val d'Aosta quindi il passaggio da una formazione all'altra avviene molto di frequentemente quindi abbiamo piccole porzioni di lardeto che si alternano con altre formazioni di torbiera quindi ho messo a una quella la fitocenosia Oriopherum scherzeri che vedete in foto che ha bisogno sicuramente di suolo acido oligotrofico umido ma non ama l'acqua corrente come era il caso precedente dovevamo un altro Oriopherum che mi sottolinea un'altra condizione ecologica sempre in compartecipazione con le specie che condividano quest'habitat sono formazioni a zonali stabili cioè finché manteniamo queste condizioni ecologiche la formazione non viene colonizzata da arbusti da altre specie quindi rimane chiaro che basta cambiare di poco l'umidità del suolo o la sua componente organica che salta diciamo così l'ecologia perché queste specie carex canesciens gli sfagni qui presenti le rioforo uno stesso hanno dei range di tolleranza ai fattori ecologici molto stretti quindi basta che cambi poco perché cambi la situazione per cui sono sicuramente ambienti fragili con specie rare il disturbo camminamento pascolo passaggio perché poi qui non pascono le mande parla il passaggio può determinare problemi ma anche il cambiamento climatico può determinare un imporverimento iniziale di queste fitocenosi fino alla scomparsa quindi sono sicuramente molto interessanti da monitorare qui vediamo topi eldi insomma abbiamo alcune altre specie la carex stessa che citavo prima e qui i nostri giovani al lavoro per questo progetto anche Hermes di schiena che parlerà dopo di me dicevo non è l'unica formazione perché laddove c'è acqua stagnante o acqua corrente queste formazioni cambiano per cui abbiamo altre associazioni con altri erioforum sempre specie abbastanza rare quindi erioforum angustifolium erioforum vaginatum tricoforum cespitosum quindi tutte specie che segnalano proprio condizioni ecologiche differenti in ultimo e non ultimo però quella che ho lasciato per ultima quella che per me è la formazione forse più interessante che sono le formazioni a questo lichene la cetraria islandica e la calmia procumbens o come si chiama oggi prima si chiamava loiseleuria procumbens quindi una formazione legata alle rocce soprattutto le grandi le rocce che emergono anche da questa conca quindi rocce che non vengono innevate durante l'inverno emergono e sono battute dai venti il vento ha un potere inaridente fortissimo a queste quote quindi si tratta di specie seriche serofite che adattate all'aridità si riciccole quindi vogliono substrati acidi e che sono formazioni molto stabili non vengono colonizzate da piante non ci si cammina sopra perché sono rocce emergenti non ci vanno gli animali quindi l'alterazione di questi ambienti di questi abitati di questa fitocenose è assolutamente se c'è solo legata al cambiamento climatico per cui per me sono veramente queste fitocenosi quelle che meglio mi possono aiutare a monitorare e a capire il cambiamento in atto un cambiamento in composizione specifica una diminuzione nell'estensione di queste fitocenosi prima che poi scompariano ma già all'inizio mi danno dei segnali interessanti e importanti quindi più forse ancora delle formazioni erbacee a pascolo perché a volte è difficile scindere quello che è l'effetto dell'antropizzazione che sia pascolo che sia disturbo portato dal turismo diciamo e da altre pratiche e l'effetto invece del cambiamento climatico a volte è difficile capire l'effetto sulle piante di due fenomeni che avvengono in contemporanea qui abbiamo un unico fattore che può essere di stress e quindi può aiutarci nel monitoraggio per cui queste formazioni sono qui presenti e quindi sarà interessante anche in futuro poterle continuare a monitorare quindi il monitoraggio di queste aree studiate l'idea è quella di continuare di quindi poter anche anno per anno cercare di fare un confronto ovviamente come già diceva il collega Bocchi è fondamentale l'integrazione il confronto dei dati puntuali della rialaborazione degli stessi con le altre discipline in modo da cercare di mettere a punto anche un modello che poi possa essere utilizzato anche in altre aree e sicuramente il confronto con dati cartografici storici ci può aiutare l'ambiente GIS ci può aiutare anche a confrontare la superficie occupata dalle diverse fitocenosi di oggi e fare un confronto con gli anni passati abbiamo sicuramente la disponibilità anche di foto aeree foto satellitare anche di periodi anche distanti questo un confronto poi con le coperture nevose con i dati climatici ci può aiutare ancora meglio a chiarire molti di questi aspetti e quindi fare una valutazione dei cambiamenti spaziali e temporali e capire il perché e cercare di se si può trovare anche una soluzione anche in termini di conservazione di questi ambienti ripeto conservazione che deve comunque integrarsi con un uso corretto e anche produttivo di questi ambienti e di queste aree io quindi qui concludo alla fine per chi vorrà sono a disposizione per rispondere ad eventuali domande e vi ringrazio per l'attenzione ovviamente ringrazio i colleghi e ringrazio ager per questa grande opportunità di poter effettuare questo tipo di ricerche